Buon pomeriggio e buona domenica da Andrea Cartotto. Quest'oggi un video su richiesta. Richiesta che mi è pervenuta in origine da una collega ligure della scuola primaria, ma qui poi sono seguite altre richieste da altri docenti, anche da varie regioni oltre la Liguria. Dunque rispondo con piacere al bisogno che mi è stato segnalato per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, correggere digitalmente un documento in PDF e ancora rendere un PDF che io già possa avere, dunque una scheda didattica, compilabile online da parte dell'alunno che lo desideri. Questa risorsa si chiama DocHub, la risorsa che oggi vediamo, è una risorsa freemium, cioè con la gran parte delle funzioni free, utili al docente, talune funzioni, capiterà magari di osservarne alcune, sono a pagamento laddove lo si desideri. Risorsa web, quindi una risorsa che carica sul suo server il documento che noi diamo in pasto da elaborare e mi permette poi di scaricarlo per averne copia locale o inviarlo via email a un destinatario o parcheggiarlo sul nostro servizio cloud. Vedi Google Drive. Come accedo? Unico requisito, un indirizzo email, che potrebbe essere anche l'indirizzo istruzione, o un account Google, Google Suite o personale, dunque un Gmail. Clicco su sign in with Google. Come vedete ci viene richiesto dal browser, io sto utilizzando in questo caso Google Chrome, il nostro account mail. Vi suggerisco per la gran parte delle web apps di utilizzare come browser Mozilla Firefox o Google Chrome per l'appunto. Vado ad inserire ora il mio account personale, in questo caso, seguito dalla sua password. Poi ci troveremo davanti a quella che in gergo si chiama la dashboard, cioè il cruscotto, la bacheca dei nostri servizi. Come vedete, se ne lo usiamo nel tempo, ci sono già presenti i documenti su cui abbiamo lavorato, ma vi mostro come partire da zero. Con un esempio semplicissimo. Vado a cliccare su new, barra degli strumenti di sinistra, e seleziono sotto import, dunque importa, la fonte della mia scheda didattica o della mia attività di verifica. È in locale, cioè sul computer del docente, clicco computer e la prelevo, o io farò così. La ho su Dropbox, Google Drive o OneDrive, cioè presente su un cloud del docente, clicco il servizio cloud. Casi limite, ho un Google Site della classe, conosco esattamente l'indirizzo web, l'URL di quello specifico documento in PDF, posso copiarlo ed incollarlo in quella casella bianca. Gestione del documento, private, documento privato. Dunque, un clic su computer, tasto sinistro. Nella mia cartellina dei download, presente all'interno del mio sistema operativo, vado a cliccare il file verifica matematica classe prima, in questo caso è per la primaria, ovviamente declinabile per qualunque altro ordine di istruzione. Un clic su apri. Attendiamo il caricamento ed ecco la nostra area di lavoro. La scheda didattica di cui parlo è composta di più pagine. Ma non le vedo Andrea, attenti. Un clic a sinistra su page controls ed ecco le miniature delle nostre pagine di riferimento. Supponiamo che questo PDF mi sia arrivato scansionato dai genitori, io lo abbia mai compilato a mano, voglio fare una veloce e chiara correzione. Vediamo come procedere. Allora, una modalità potrebbe essere cliccare sul pulsante a forma di matita draw free hand, la mano libera. Tanto per essere ancora più chiaro, clicco, vado a circolettare un elemento. Vi sconsiglio, a meno che non sia ritenuto necessario chiaramente dai colleghi questa azione, a meno che non si abbiano tavoletta grafica o non si stia lavorando su uno schermo touch a quel punto, perché io potrei lavorare anche da un tablet, tramite browser, questa è una web app, allora ho la naturalezza del gesto. Nel mio caso specifico vi mostro un prototipo di correzione ancora più veloce. Vado a fare un clic sulla freccia undo, dunque la freccia annulla, e vado ad applicare dei bollini di correzione. Baffo, dunque spunta, hai fatto bene, X, rossa, per giunta, dunque errore. Allora, notate che se io clicco sulla tendina qui presente, gli stamp sono proprio questi adesivi che io posso apporre. Clicco sulla mia spunta, le assegno il colore verde dal circoletto, posso sia cliccare sulla tavolozza che prendere uno dei pantoni, cioè dei colori di esempio preconfezionati, e poi a sinistra posso andare a variare la grandezza dello stamp, quindi passare da un corpo 24, per esempio, a dei corpi inferiori. Andiamo a fare un clic, ecco il mio stamp a disposizione per la correzione veloce, e vediamo. Un clic, 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 molto bene, molto bene, molto bene, simuliamo che ovviamente nel quadratino ci sia il risultato annotato a matita della sottrazione. Qua ci sono due errorini, correzione terminata, facciamolo divenire una correzione su errore, e allora clic sulla mia tendina, vado a prelevare la x, la x dunque l'errore è meglio contrassegnarlo di colore rosso, clic, seleziono il rosso tranquillamente da qui, cioè abbiamo ampio margine di possibilità per la scelta del colore, o prendo un colore campione o agisco sulla tavolozza, no? Tanto per intenderci posso andare a ricercare, oppla, un clic, voilà, è solo un lavoro di pazienza, eh? Ricordiamoci, e lo dico a voi colleghi, ma anche alle famiglie, insomma, per poter trasporre, nella tecnologia e nel digitale nulla è precluso, ma ci vogliono un linguaggio diretto è semplice e la pazienza nell'agire, perché la didattica digitale è davvero per tutti. A questo punto ho preparato il mio stamp, poniamo che 24 sia troppo, io lo faccio diventare 18, ed eccoci qua. Errore, errore, voilà, come direbbero in francese. Attenzione però, mi è rimasto magari una piccola anomalia, vedete che c'è una spunta, 10 meno 7, c'è una spunta, ma abbiamo detto che la spunta è di colore verde, non c'è nessuna difficoltà, faccio un clic sulla mia freccia nera in alto, il pulsante di selezione, ritorno a cliccare una volta tasto sinistro sulla mia spunta, quello che chiamiamo anche il flag, torno sul pallino rosso, vado a selezionare il colore verde, ed ecco che ho risolto immediatamente una situazione. Quindi vedete quanto può essere in realtà poi agevole o più veloce la correzione, ad esempio, di una scheda didattica o di un compito. Vi mostro anche come rendere questo modulo editabile, si dice in gergo dunque compilabile in digitale, sempre con preghiera di controllo da parte del docente. Quando intendo preghiera di controllo, intendo dire di aprire poi, io suggerisco, con almeno due lettori PDF, in realtà guardate, basta utilizzare Adobe Reader, Sumatra PDF, Foxit Reader, o il browser, qualora lo vogliate, Microsoft Age, presente ad esempio su Windows 10, che consente di aprire direttamente i file PDF se non è presente un ulteriore lettore. A questo punto vi ho detto di renderlo editabile. Andrea, cosa intendi dire? Ecco, ve lo mostro. Secondo pulsante nella barra degli strumenti, Manage Fields, i campi. Il campo è una variabile ricorrente nei vari software che ci accompagnano. Per assurdo, magari lo tratteremo in altro videocorso, anche un ottimo software open, cioè libero e gratuito, come LibreOffice, consente di creare un modulo con i campi editabili, e proprio campi si chiamano, in inglese, Fields. Vediamo un pochettino quali sono questi campi. Ad esempio, un campo text. Nome, cognome, classe, quasi quasi può richiedere un campo text. Click, click, lo appongo. A destra avrei la possibilità di, ad esempio, rendere questi campi obbligatori, required field, e di decidere anche il limite dei caratteri, se lo voglio. D'accordo? Per cui valutiamo un pochettino al bisogno. Io suggerirei di apporre ragionevolmente un numero di caratteri per il nome e per il cognome. Inseriamo un altro Field. Cognome, classe, ok? Nome, cognome e classe. Tre campi editabili. A questo punto, se io avessi voluto o volessi far compilare la sottrazione direttamente al computer, il criterio ora lo avete capito. Manage Fields in alto, secondo pulsante. Text Field. Click. 7-5. Qua posso apporre la risposta. Per i colleghi più precisi, segnalo che vi sono anche le maniglie di ridimensionamento che consentono di rendere la casella perfettamente aderente allo spazio predisposto, eccetera, eccetera, eccetera. Dici, ma come uscire ora da questa modalità? Ricordate l'esempio di prima, un clic sulla freccia, che è il pulsante di selezione. Il pulsante di selezione è neutro, non commetto errori, ma mi permette al bisogno di fare spostamenti oppure ancora di eliminare, delete, il mio campo. Se voi notate c'è anche un lucchettino. Il lucchettino blocca quel dato campo per evitare che si sposti inadvertitamente e così via. Attenti, lato docente, lato discente, lato alunno. L'alunno non li muove i campi, è una volta inseriti. D'accordo? Azione terminata. A questo punto andiamo un pochettino a riscontrare il nostro lavoro. Io effettuo il cosiddetto download locale della mia scheda. Clic sul pulsante in alto a destra. Vedete? Decido come scaricare. Esporto direttamente in Classroom. Ottima funzione per chi ha ambiente di apprendimento Google Suite. Salvo su Google Drive, salvo su Dropbox, salvo su OneDrive o salvo la versione attuale, quella su cui sto lavorando. Tutte le pagine o range solo questa pagina. Molto interessante di nuovo come modalità. Io ora lascio all tutte. Vado a cliccare sul pulsante download, pulsante blu. Attendo, come vedete. Consueta regola dell'informatica moderna e non solo. Se ho già un documento che si chiama verifica matematica classe prima, questa mia revisione si chiamerà classe prima 1. Mi raccomando, prestate cura e attenzione, sembra una sciocchezza e non lo è, al nome che assegniamo ai nostri files. Faccio un clic su salva. Potrei chiudere tranquillamente DocHub. Io nella mia cartella dei download sul mio computer ho questo documento. Verifichiamo un attimino. Clicco sul pulsante Esplora di Windows 10, vado su Download. Ecco, verifica matematica classe prima 1. In questo caso, su questo mio PC, io ho Adobe Reader come lettore. O anche su Matra PDF, che è un lettore open source, però l'ho aperto come una buona quota parte di docenti andrà a fare. Clicco sulla freccia per andare a restringere un pochettino la mia barra degli strumenti. E ora vediamo un attimo. Nome, clic. Andrea, cognome, clic. Partotto, classe, clic. Seconda, prima o quello che sia. D'accordo? Questa è l'azione che io vado ad effettuare per una compilazione, diciamo, adeguata. Il text field, ora in questo caso, perché vi dico di verificare? Vedete che in realtà, se clicco, seleziona un intero blocco. Per cui in realtà non dovrei fare altro, per intenderci, che andare ora, torniamo un secondo, sul nostro browser Google Chrome è rimasto aperto. Vedete? Text field. Clicco sul bidone, elimino. Clicco sul bidone, elimino. Se un campo non viene correttamente inserito, ci fosse una qualunque anomalia, io riclicco su text field, lo riappongo, e a questo punto ho nuovamente predisposto quella che è la compilazione da parte degli alunni. Posso fare in modo che il campo sia required field, cioè quadratino, io richiedo quella compilazione. D'accordo? Ed ecco che abbiamo a disposizione una soluzione semplice, sia per l'editing, cioè la compilazione, che per la revisione correttiva da parte del docente, e siamo in grado di far fronte nei contesti dove ambienti di apprendimento non ce ne siano. Siamo in grado, come dire, di supportare, in questo caso, i colleghi meno digitalizzati che ricevano materiale spurio, ibrido. Vedi l'esempio da cui sono partito io, una eventuale scheda PDF realizzata e compilata a mano da un alunno, stampata magari dal genitore, e poi trasmessa all'insegnante in formato digitale. Spero di esservi stato utile. Sul mio canale YouTube Trainer Andrea ci sono numerose altre risorse a disposizione dei colleghi, che in questo momento anche della didattica a distanza non solo possono far comodo, ma ci aiutano a renderci, cosa fondamentale, digitalmente alfabetizzati, di modo tale da avere un'ottimale ricaduta didattica sui nostri alunni. Buona giornata ancora da Andrea Cartotto.